Con lo yogurt frio, 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 no, non lo voglio dire Frio, frio, vabbè, fuio, fuio No, sono fuito, voglio fuire sempre fuio Quindi, apriamo questo AHHHHH C'è capito che l'hage lasciato in tuo frigorifero senza accensione, ma no Ma è un maio di proprio città di cose proprio a disposimento Eh, non lo so, vediamo se è buono